Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone un apparattamento sito nel comune di Albuzzano, provincia di Pavia. Albuzzano dista 10 minuti da Pavia e dista 26 chilometri da Lodi. Bene, veniamo all'abitazione. L'appartamento è di circa 70 metri quadrati. Come vedete qua, c'è un soggiorno con angolo cottura. L'immobile è completamente nuovo e non è mai stato abitato. Le finiture sono di estracapitolato. Come vedete quello è il termosifone che scalda tutto l'ambiente. Fuori c'è la caldaia e gli attacchi dove poter mettere lo split dell'aria condizionata. Il terrazzino è stato completamente piastrellato. Uno potrebbe mettere un tavolino con l'ombrellone anche. La zona è una zona residenziale ed è molto tranquilla. Ok, lì su vediamo dove posizionare l'impianto di aria condizionata. Camera matrimoniale. Piccolo accoraggimento. Vedete lì il battiscopa è in ceramica e non è in legno. Qua abbiamo una porta finestra. Sotto c'è il giardino del vicino. Qua abbiamo le prese dove poter mettere il letto matrimoniale. Ok, adesso torniamo al disimpegno ed accediamo al bagno. bagno. Il bagno è un bagno con vasca. Vedete qua i sanitari hanno ancora l'etichetta. Il bagno con la finestra alta con chiusura con la tapparella. Ok, qua abbiamo la doccia e la vasca. ovvero la doccia è quella. Eventualmente uno potrebbe mettere una paretina. Il cristallo. Ed infine accediamo all'ultima camera che è quella più piccola, lì cassetta di sicurezza. la camera adatta ad ospitare una persona. Infatti l'appartamento sui 70 metri e diciamo sarebbe ideale per tre persone. Allegrone immobiliare 339-1916-332. Se non puoi chiamarmi ora salva il video su Facebook. oppure inviammi un'email ad allegrone immobiliare chiocciolalibro.it e le altre offerte su paviavendita.it e le altre offerte. Grazie a tutti.